speciale radio animati interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle tv amici di radio animati io sono matteo e io sono mito common e siamo qui con un ospite speciale che su radio animati non ha bisogno di presentazioni marco pellitteri bentornato marco ciao marco grazie grazie mille è un vero piacere come sempre essere di nuovo con voi abbiamo invitato marco per un nuovo speciale dedicato a goldrick dopo quello che già abbiamo realizzato con massimo nicora perché il quarantesimo anniversario di atlas uforobò in italia e in francia ha catalizzato una tale attenzione generato un tale fermento con tanto di pubblicazione di documenti inediti che ci sono effettivamente tante cose nuove da raccontare e poi siamo interessati alla visione da sociologo di marco di cui ricordiamo sta per uscire un lungo saggio intitolato reframing japanese animation success in the late 70s uforobo grandizer at the origin of the first anime boom in italy and france cioè reinquadrare il successo dell'animazione giapponese alla fine degli anni 70 uforobo grandizer alle origini del primo anime boom in italia e in francia insomma il quarantesimo anniversario non è ancora finito amici ad theories amici amici Viens nous aider, viens défendre notre terre Elle est en danger, l'ennemi héréditaire Veux nous écraser, l'avenir du genre humain Tu l'as dans tes mains, viens défendre notre terre De justice et d'amour, toi le chevalier Et solitaire, nous t'appelons au secours Nous voulons sauver la liberté de notre planète C'est la seule vérité Accour vers nous, prince des étoiles Viens vite, viens nous protéger Dans ton merveilleux robot, tu te bats encore Repousse tous les assauts, deviens le plus fort La terre a besoin de toi, pour battre VK Viens défendre notre terre, de justice et d'amour Toi le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours Nous voulons sauver la liberté de notre planète C'est la seule vérité C'est la seule vérité Viens défendre notre terre, de justice et d'amour Toi le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours Nous voulons sauver la liberté de notre planète C'est la seule vérité Ora Marco, dici, perché è importante ricostruire le vicende della importazione di Goldrick in Francia e in Italia? Questo al di là della curiosità ovviamente di tutti quanti i fan di Goldrick italiani e francesi Ancora grazie per l'invito Dunque, Goldrick è patrimonio culturale italiano e francese Molto più in generale che non rispetto al mondo degli appassionati e dei nostalgici Cioè al nostro mondo in qualche modo Le dinamiche del suo arrivo in Europa, dal Giappone per vie un po' traverse Non interessano solo l'appassionato a livello dei dettagli specifici Ma interessano o dovrebbero interessare anche e soprattutto lo studio dei media A livello di processi generali, quindi i media a livello di processi culturali Che interessano lo snodarsi dell'arrivo, del successo, della distribuzione Di determinati prodotti che poi sono diventati dei fenomeni di successo straordinario Così come anche le dinamiche dietro le quinte Questo non per una curiosità appunto dell'appassionato A cui piace chiaramente scoprire tutti retroscena Ma per capire meglio delle dinamiche che sono avvenute Certe volte in maniera molto meno lucida Molto meno lineare di quanto si potrebbe pensare Le vicende dell'importazione di Goldrick in Francia non sono così semplici Perché i racconti e le testimonianze non sono tutte concorbi E infatti in particolare nello speciale con Massimo Nicora Abbiamo dato spazio ai racconti di Bruno René Husset E ci siamo divertiti con il racconto di lui in albergo a Tokyo Che accende la tv Vede Goldrick, capisce subito di doverlo importare in Francia E contatta più riprese della reception Prima che la puntata finisca Perché gli mandano qualcuno in grado di dargli informazioni sul cartone Sui suoi produttori E poi con grande spirito di abnegazione Come abbiamo raccontato l'altra volta Avrebbe importato Goldrick Si dà il caso però che questo racconto di Husset Non concordi con le altre ricostruzioni Ci sono infatti tre protagonisti principali da tenere in mente Jacques Anestrier, Bruno René Husset e Jacques Villemont Tu Marco, dopo la prima edizione di Mazinga Nostalgia di vent'anni fa Ha intrapreso una poderosa ricerca sul campo Con intervista a numerosi autori, produttori e distributori Che porti avanti fra Italia e il Giappone dal 2013 E in particolare dal 2017 hai approfondito l'argomento Goldrick Proprio con interviste fatte a Canestrier e a Villemont Quella di Canestrier è già stata pubblicata su Mazinga Nostalgia L'intervista a Villemont è in uscita sul saggio Che abbiamo nominato all'inizio Che ruolo ufficiale hanno Canestrier, Villemont e Husset Nella storia di Goldrick Riesci a inquadrarceli con un ruolo per cominciare a fare un po' di chiarezza? Sì, penso di sì Dunque, se vogliamo schematizzare in breve Jacques Canestrier è un produttore cinetelevisivo Tuttora vivente del 1931 Attualmente in pensione Quindi Jacques Canestrier è un produttore cinetelevisivo Poi abbiamo Bruno René Husset Che purtroppo è scomparso nel 2016 Che è stato a suo tempo un impiegato Un funzionario della Marubeni In particolare della Marubeni Francia Quindi Bruno René Husset, funzionario Marubeni La multinazionale giapponese Mentre Jacques Villemont Un nome che gli appassionati ancora non conoscono, credo Perché è un nome subentrato da poco Ma Jacques Villemont è un documentarista È un antropologo Un autore di documentari di argomento antropologico Che già nei anni 70 era attivo anche con la televisione giapponese Ora parleremo di Jacques Villemont Però è un nome nuovo È una persona che ha poco meno di 70 anni Attualmente Ed è appunto la figura nuova Che ci interessa conoscere Perfetto, dici allora delle versioni di Canestrier e di Villemont E di cosa possiamo dunque dire sui fatti Che veramente portarono a Goldrick in Europa Allora La mia risposta si adagia inevitabilmente Sulle versioni attualmente in circolazione Circa l'arrivo di Atlas su Forobot Prima in Francia e poi in Italia La versione attuale Che è stata divulgata in alcuni interventi Anche sui forum Sia italiani sia francesi Sarebbe che il cartone animato di Goldrick Sia stato scoperto per la prima volta Visualizzato proprio alla televisione Da Bruno René Oshè Nel suo colorito resoconto Il Le Tempo a Goldrick Un suo libro autoprodotto del 2014 Versione che è in parziale Anzi netto contrasto Con i racconti Con le interviste rilasciate In oltre 40 anni Da Jacques Canestrier Che è il produttore appunto Scine televisivo Che ha materialmente venduto la serie A Antenne 2 La rete televisiva Che si chiamava Antenne 2 Negli anni 70, anni 80 in Francia Massimo Nicora Ha scritto nel suo libro C'era una volta Goldrick Nel 2017 Ha fatto un resoconto Molto dettagliato In italiano Del racconto autobiografico Di Bruno René Oshè Anche lui esprimendo in alcuni punti In alcuni dubbi Per il fatto che Questo resoconto Di Bruno René Oshè Non trova sempre riscontro Adeguato Presso le altre voci Di questa storia Soprattutto Jacques Canestrier E in alcuni casi Anche alcuni italiani Per esempio Nicora dichiara Cioè segnala Che nell'intervista Da lui condotta Con Paola De Benedetti Paola De Benedetti Segnala Ma veramente Io non conosco Non so chi sia Questo signor Bruno René Oshè Non ho mai avuto a che fare Con lui Sempre avuto a che fare Con Antenne 2 Eccetera Insomma Pur però Con le dovute cautele Oggi Ho l'impressione Da quello che ho letto In rete Nei forum Che il grosso Degli appassionati Tanto in Francia Quanto in Italia Almeno quegli appassionati Che si interessano A questi retroscena A queste dinamiche Sull'importazione Siano quasi convinti Che il ruolo Di Bruno René Oshè Sia stato quello Che lo stesso Oshè Aveva raccontato In prima persona Nel suo libro Autobiografico Tuttavia Io mi ero Qualche modo Avevo subodorato E non ero stato il solo Credo Che il racconto Di Oshè Fosse un po' troppo Colorito Per rispondere Del tutto A verità Ci fossero vari dettagli O addirittura Porzioni consistenti Al punto di vista Quantitativo E qualitativo Del suo racconto Che non Non potevano combaciare Soprattutto Considerando Proprio Le smentite Le versioni Contrastanti Offerte Da Da altre figure Che o non lo conoscevano O ne minimizzavano L'operato E l'influenza Sull'arrivo di Goldrake O che erano Proprio in aperto Contrasto In effetti Nell'intervista Che io ho realizzato Con Jacques Canestrier Il 27 ottobre Del 2017 A coronamento Dell'articolo Che stavo scrivendo Nel corso Del 2017 Appunto Nell'intervista Con Jacques Canestrier Insomma Gli ho chiesto Ulteriormente Di cosa Cosa avesse da dirmi A proposito Di Bruno René Ushè Devo dire Che per una questione Di diplomazia Non ho scritto Proprio tutto 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 Quello che Bruno Che Canestrier Mi ha detto A proposito Di Ushè Però Marco Continueremo ad essere Diplomatici Anche su Radio Animati Giusto? O stai per Abbandonare Questa scelta No? No assolutamente Semplicemente Stavo per dire Che nel Secondo volume Di Mazzinca Nostalgia Nell'edizione 2018 Uscita A febbraio Del 2018 C'è appunto L'intervista A Canestrier E Canestrier Insomma Una delle dichiarazioni Di Canestrier Che ho pensato Fossero assolutamente Pubblicabili Esprime Canestrier Una considerazione Anche molto forte Quando io ho chiesto Ma cosa mi dice Del fatto che Bruno René Uncè Nel suo libro Diceva Di avere scoperto E ho detto No Sono delle menzogne Non è vero nulla Perché la dinamica È andata in maniera Molto diversa E appunto La dinamica Che Canestrier Ha sempre Raccontato E con coerenza Mi ha raccontato Anche nell'intervista Che abbiamo avuto insieme È Che Bruno René Uncè Non era Diciamo Un broker Indipendente O un alto funzionario Della Marubeni Ma era sostanzialmente L'assistente Di Takao Matsumoto E Tutti i movimenti Svolti Da Uncè Riguardo alle serie Animate Giapponesi Che in quei mesi Tra il 76 Il 77 Erano in teoria In lizza Per un eventuale Acquisto Almeno per la proposizione Alle alte sfere Di Antenne 2 Erano Maneggiate Dalla Marubeni O E Qua si arriva Al nuovo nodo Da Una terza figura Che è appunto Jacques Villemont Sulle entrate in scena Di Jacques Villemont Io proporrei Una pausa musicale E poi ritorniamo Su Radio Animati Per scoprire Il ruolo Di Jacques Villemont Giarlo Hidnừng nor Kimi no kime hora Marubeni Gitaro Imu wa Uchuu no Teke tsuri M infinity E tekeада Grazie a tutti 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 Nel 2016 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti